Il titolo della mostra, quando cadono le piume, fa riferimento a un periodo che è quello di cambiamento, che in natura è la muta, in cui gli animali e le piante cambiano pelle per riadattarsi alle condizioni esterne che a loro volta cambiano. Il titolo appunto fa riferimento al periodo in cui tutt'oggi noi siamo e comunque c'è stato un bisogno di riadattarsi e di cambiare a nostra volta forma, senza però perdere la nostra identità individuale. Nel realizzare questo progetto mi sono ispirata a una serie di figure della simbologia paleocristiana che ho utilizzato come metafore visive per mantenere una sensazione di tensione costante. I miei scatti sono tratti dal progetto Categories, in cui esploro la scena drag romana e più in particolare il processo tramite cui ogni drag queen, attraverso il proprio corpo, trasforma la propria identità o ne estremizza degli aspetti. I colori giocano un ruolo fondamentale nel testimoniare l'eccentricità di questi personaggi e la giocosità, il divertimento che c'è stato dietro gli scatti. L'intero progetto è focalizzato su immagini allusive che riportano alla mente la figura della luna e dell'albino e della maternità senza mai rappresentarle davvero. Quanto laureata in fotografia anch'io alla Rufa, tornare qui a lavorare con gli studenti è stato per me interessante e stimolante.